Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Come forse vi potrete immaginare vedendo la sacra pilotka della vojennovosnuznesili, oggi si parla, in questo video si parla di cose made in Unione Sovietica, di cosucce fatte durante la grande guerra patriottica in Unione Sovietica. Nella fattispecie parliamo di una cosa che un metallaraccio di merda come me non può non amare e apprezzare, perché parliamo di una cosa grande, grossa, brutta, pesante e cattiva, veramente cattiva, perché parliamo, quest'oggi, di questo, il carro pesante Climenti Voroshilov KV-1A del 1940. Forse il primo vero carro pesante di concezione moderna entrato in servizio in un esercito mondiale, entrato in servizio durante la seconda guerra mondiale. Ripeto, c'erano altri carri pesanti, tipo per esempio lo Char B-1 francese, ma erano di una concezione più relativa, più alla prima guerra mondiale che non alla nuova guerra che si stava combattendo. Il KV-1, cioè questo simpatico ciabattone qua, guarda che bello, guarda che grosso, guarda che... Guardatelo signori, guardatelo. Allora, era un progetto nato più o meno nel 1938. Il gruppo di lavoro dell'ingegner Kotin ricevette la richiesta di uno o più prototipi di carri pesanti che avrebbero dovuto essere presi in considerazione per il potenziamento, per il nuovo programma di potenziamento delle forze corazzate sovietiche, che era previsto per il 1940. Allora, nelle fabbriche di Leningrado furono elaborati i primi progetti e che prevedevano ancora carri con la fallimentare disposizione a torrette multiple, come quelle dei corazzati T-32 e T-35. Ma alla fine i progettisti giunsero giustamente alla conclusione che era meglio una sola torretta armata di un cannone potente. Il peso risparmiato con l'abolizione delle altre torri si poteva proficuamente utilizzare potenziando la corazzatura. Sembra facile, ma in realtà non lo era affatto. E l'idea dei progettisti sovietici era l'uovo di Colombo. Furono tra i primi a pensarci, dicevo. Quando il progetto definitivo venne sottoposto a Stalin, questi decise di eliminare anche le piastre corazzate poste a protezione delle sospensioni, che erano praticamente soltanto peso aggiuntivo e trappole per accumulare fango, tronchi e detriti. Fu giocoforza perciò sostituire queste, le sospensioni originali erano a balestre e molloni, con altre a barre di torsione. Una novità per la tecnica del momento, sicuramente meno delicate ed esposte delle precedenti. Era nato così il primo carro KV, che prendeva la sigla dall'iniziale di Klement Voroshilov, che era commissario per la difesa. Allora, questo mezzo assunse la sigla di KV-1. Eccolo qui. E la serie di questi corazzati si svilupperà praticamente in una decina di tipi, lungo tutto l'arco della guerra, tra cui anche lo SU-152, il babbo del mio amato Zveroboy, perché lo SU-152 aveva come base questo, l'ISU-152, il vero Zveroboy, era basato sullo scafo dello Stalin. Ok? E' da tenere conto però che alcune sigle, che contraddistinguono l'uno o l'altro tipo, furono adottate dai tedeschi, mentre i russi continuarono a chiamare semplicemente KV-1, tanto, ad esempio, tanto per fare un esempio, tanto il KV-1 che il KV-1A, questo, ok? E' anche il KV-1B. Allora, il carro era estremamente rustico come costruzione, come del resto quasi tutte le armi russe. Si badava all'economia, all'efficacia, alla facilità di costruzione, alla rusticità e soprattutto al farle usare a contadini semi-analfabeti che non sapevano neanche andare in bicicletta, perché in bicicletta non sapevano cos'era. Ok? Praticamente, questo carro aveva molti componenti identici a quelli del T-34 per motivi di praticità logistica, 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 ricambi, facilità di manutenzione, rusticità d'uso, praticità. Eh, sembra facile, ma in certe teste, dall'altra parte, non è mai entrato questo elementare concetto. Teniamolo presente. Allora, signori, continuiamo. Allora, lo scafo era interamente saldato e nei tipi successivi ebbe una torretta ricavata per fusione che ne migliorò nettamente le caratteristiche di robustezza. Allora, il motore che verrà poi largamente adottato era un diesel a 12 cilindri a V, inizialmente della potenza di 600 cavalli. Insomma, niente male, eh? L'armamento principale comprendeva un cannone da 76,2 per 30,5 calibri, che verrà subito sostituito con il più potente 76,2, 41, che era un pezzo decisamente migliore. Per la difesa ravvicinata erano adottate tre Dektyarev 1929 da 7,62. Tra le varie versioni migliorate di questo carro, ricordiamo che c'era il KV2, dotato da prima di un obice da 122 e poi di uno da 152. Ovvero sia, a noi russi piace averlo più grosso rispetto ai tedeschi, ma i nostri funzionano meglio. Lasciamo stare, poi dopo mi accusano di partigianeria e faziosità. Insomma, signori, sono interista, che cazzo pretendete? Scusate, eh? Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, signori, scusate. Allora, dicevo, dicevo, allora, invece il KV1S che deriva dalla parola scorso noi, ovvero sia veloce, un modello alleggerito e dimensioni leggermente ridotte e infine c'era il KV8, ovvero sia un KV1C dotato di un lanciafiamme in torretta abbinato a un cannone da 45. Allora, cosa fu il KV1? Il KV1, ripeto, fu un ottimo carro pesante. Aveva debuttato durante l'aggressione alla Finlandia e combatterà contro i tedeschi sin dai primi giorni del secondo conflitto mondiale, sin dal primo giorno della grande guerra patriottica. E in un primo momento, anche con buoni risultati, poi, con il migliorare dei controcari germanici e con l'impiego di cari avversari sempre più potenti, i KV saranno costretti ad appesantire le corazzature, sino a perdere quelle brillanti caratteristiche che in un primo momento avevano conferito loro la superiorità sull'avversario. D'altronde, non si può dire che fossero dei carri perfetti, tutt'altro. Gli equipaggi si lamentarono sempre dello scarsissimo confort offerto dai carri KV e della praticamente inesistente possibilità di abbandonare il carro in condizioni di emergenza senza esporsi in pieno al fuoco nemico. e dal KV nacquero, furono derivati, insomma, il KV, questo, ripeto, il KV fu il progenitore, il papà del carro Stalin, che furono una delle armi decisive nell'avanzata russa nel cuore della Germania. Allora, ci si chiede ma perché, cioè, oggettivamente il KV era decisamente superiore a tutto quello che i tedeschi potevano mettere in campo durante l'operazione Barbarossa. Ma allora, perché i KV furono fatti praticamente a pezzi fin dal primo giorno di guerra e l'armata rossa subì perdite così spaventose, nonostante questo bestione fosse praticamente superiore a tutto quello che i tedeschi potevano mettere in campo? La risposta è semplicemente la risposta è molto semplice è una concomitanza di fattori uno la tattica la tattica dopo che il generale Tukacevsky era stato condannato come nemico del popolo la sua dottrina era stata cancellata e l'armata rossa che aveva subito anche le sanguinose purge prima di Ezov e poi di insomma le sanguinose purge staliniane Ezov Jagoda e Berria avevano fatto veramente a pulire negli alti quadri dell'armata rossa cioè fu un'autentica strage cioè con Tukacevsky sparirono praticamente tutti coloro che avevano studiato alla scuola semi-clandestina russo-tedesca a Kazan le tattiche per la guerra corazzata praticamente tutti i vertici l'armata rossa fu decapitata le tattiche di le tattiche di Tukacevsky la dottrina di Tukacevsky fu brutalmente cancellata gli uomini di Tukacevsky furono cancellati praticamente anche loro in quanto nemici del popolo sapete bene come ragionava Stalin sapete bene quanto fosse spietato lui quanto fossero spietati i suoi uomini Yezhov Yagoda e soprattutto Beria ok e durante l'operazione Barbarossa l'unione sovietica l'armata rossa era ancora in questa crisi riorganizzativa dopo le purghe senza poi contare la pessima prova fornita durante la guerra d'inverno perché durante la guerra d'inverno contro la Finlandia durante l'aggressione russa alla Finlandia l'unione sovietica l'armata rossa non fece propriamente una bella figura cioè l'armata rossa vinse la guerra d'inverno l'unione sovietica vinse la guerra d'inverno ma pagò un prezzo spropositato per le sue tattiche fallimentari e le tattiche fallimentari continuarono in Russia durante l'operazione barbarossa perché mentre i tedeschi come avevano già fatto in Polonia e in Francia usavano i loro mezzi corazzati in massa cioè in grandi formazioni in gran quantità cioè lanciando i loro mezzi corazzati tutti assieme contro gli obiettivi i tedeschi fecero lo stesso errore dei francesi è anche quello che facemmo noi nel deserto durante l'operazione compass ovvero sia usare i mezzi corazzati in piccoli gruppi o addirittura isolati col risultato che anche un mezzo tecnicamente superiore e molto efficiente come il KV si trovasse in enormi difficoltà cioè è inutile avere un solo carro estremamente superiore ai carri tedeschi quando cosa succede sei uno contro dieci o venti panzer anche se quelli sono più piccoli anche se quelli sono inferiori ti girano intorno come una trottola e ti seccano come vogliono senza poi contare il fatto che la maggior parte delle perdite dei carri dell'armata rossa durante l'operazione barbarossa fu dovuta non tanto all'azione dei carri dei panzer che avanzavano ma all'azione dell'artiglieria e dell'aviazione e ripeto il fatto che i sovietici praticamente per quasi tutta l'operazione barbarossa per quasi tutta la durata dell'operazione barbarossa diciamo fin quasi alle porte di Mosca i russi continuarono a usare i loro mezzi corazzati a spizzichi e bocconi quando non addirittura isolati e lì la superiorità tecnica dei mezzi aveva poco da fare contro le superiori contro le migliori tattiche tedesche e inoltre ripeto la maggior parte dei carri armati sovietici durante barbarossa fu distrutta ripeto non dai panzer che avanzavano ma dall'artiglieria era l'artiglieria la vera nemesi delle forze corazzate sovietiche che ripeto usando pochi carri per volta contro formazioni molto più grosse ahimè erano destinati a soccombere nonostante ripeto il KV fosse un carro estremamente potente fosse un carro decisamente migliore rispetto ai contraltari tedeschi era un mezzo da 47 tonnellate era lungo quasi 7 metri largo 3 metri e 30 alto 2 metri e 60 e aveva un motore V2K da 600 cavalli su strada andava a 35 km su terreno vario era molto più lento perché faceva fatica ad arrivare ai 12 km 3 orari l'autonomia era di 250 km su strada e 150 km fuori strada l'armamento come ho già detto era l'eccellente pezzo da 76 e 2 millimetri e 3 mitragliatrici per la difesa per la difesa ravvicinata 114 colpi da 76 e 2 3.000 proiettili per le mitragliatrici le prestazioni erano più che buone perché poteva superare una trincea di 2,70 m un gradino di 119 di 1,20 m circa una pendenza del 36% e un guado di circa 1,5 m insomma le prestazioni erano più che buone il mezzo era buono anzi era eccellente se si esclude la pessima ergonomia se si esclude lo scarsissimo comfort degli equipaggi ma oggettivamente i sovietici hanno sempre sempre solo soltanto e solamente badato al sodo anche se questo costava come dire mandare in guerra e anche questo fu uno dei problemi dei carri sovietici fino alla metà della guerra lo scarsissimo comfort dei mezzi che facevano arrivare in battaglia gli equipaggi stanchi e sfiniti e che quindi erano in condizioni diciamo peggiori rispetto ai loro colleghi tedeschi che avevano mezzi decisamente più confortevoli prendete per esempio il Panzer IV che aveva tutti gli spigoli imbottiti che aveva tutti i seggiolini imbottiti comodi in modo che il pilota e l'equipaggio fossero comodi durante il viaggio durante l'avvicinarsi al fronte che potessero combattere meglio in battaglia i russi a queste cose non ci pensavano loro badavano soltanto a costruire mezzi rustici potenti affidabili di facile costruzione e di facile manutenzione oggettivamente se si passa sopra ai suoi gravi difetti il KV-1 fu probabilmente uno dei migliori mezzi corazzati di prima generazione della seconda guerra mondiale insomma assolutamente noi italiani non avemmo mai durante la guerra qualche cosa di lontanamente paragonabile a un carro come il KV-1 i tedeschi vedendo incontrando il KV-1 ebbero l'idea del Panther e del Tigre il KV-1 diede origine al Tigre sì signori il Tigre il leggendario Tigre il supercaro tedesco il simbolo della potenza della forza corazzata tedesca ebbe origine dall'incontro che i Panzer tedeschi ebbero con il KV-1 perché dissero oddio oddio ce l'hanno più grosso di noi facciamolo più grosso ancora e il Tigre come filosofia costruttiva come idea deriva dal KV-1 cioè nacque dall'incontro delle forze corazzate tedesche con il KV-1 dell'armata rossa e c'è poco da dire e poco da fare ricordatevi io cito spesso quando parlo dell'operazione barbarossa le parole del generale Guderian 1 la vastità della Russia ci divora 2 a settembre 1941 Guderian disse che i russi stavano imparando la lezione e che la faccenda si faceva estremamente seria si faceva estremamente preoccupante perché perché avevano incontrato mezzi come i primi i T-34 e mezzi come il KV-1 che da prima furono usati in maniera sbagliata clamorosamente ok che attaccando da soli o in piccoli gruppi contro forti formazioni nemiche corazzate tu sei destinato comunque a prenderle e a prenderle di brutto senza poi contare la superlativa capacità di collaborazione della Luftwaffe con la forza di terra senza contare poi l'artiglieria perché il vero nemico ve lo ripeto di nuovo il vero nemico dei carri sovietici durante l'operazione barbarossa non fu non fu la Panzerwaffe ma fu l'artiglieria tedesca quella che fece la vera strage dei carri sovietici ok quindi cari signori come sempre il K insomma come sempre ripeto il KV-1 fu un buon carro armato da cui ebbe origine praticamente tutta una serie di mezzi sovietici e che ispirò la filosofia del tigre ok per il resto come sempre se avete qualcosa da aggiungere ci sono i commenti aspetto come sempre le vostre considerazioni come sempre vi ringrazio per l'attenzione e di nuovo ancora arrivederci al mio prossimo video ciao ciao